La Fenice non era certo l'unica creatura ad abitare le montagne del Kovir e Geralt non portava con sé una spada d'argento solo per figura. Con l'aiuto di a... Seguitemi, ma niente atti di eroismo. Forza! Spennate la gallina! Strano, non sembra fuori controllo. Ti offro una morte veloce! Ti offro una morte veloce! Moro ti divorerà! Faremo una fortuna! Un pollo bello grosso! La fanciulla ha bisogno di così tante piume! Volete ucciderla per fare un vestito con le sue piume? Ho! 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 Grazie.